allora cari amici video importantissimo ho fatto un po di ricerche ho messo insieme un po di pezzi e vi dico intanto che oggi è il giorno della prova generale ebs che cos'è la tecnologia ebs è una tecnologia militare un sistema di comunicazione militare che permette di fatto di prendere il possesso di tutti i network televisivi radiofonici e anche dei canali e della rete internet senza per questo entrarvi fisicamente senza per esempio andare nella sede della fox news si può in altre parole grazie a questa tecnologia i militari possono decidere di trasmettere i contenuti che vogliono che devono essere trasmessi sui vari media senza che nessuno glielo possa impedire e quindi vedete che questo è un pezzo importantissimo della famosa disclosure o decondizionamento se volete dirla in italiano e nella fra poche ore fra poche ore nella stanotte è appunto è prevista questa prova generale perché devono testare questa tecnologia che è nuova devono testarla devono metterla a punto definitivamente e quindi è un fatto molto 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 importante che deve alzare le nostre vibrazioni vedete come sono tranquillo e sereno io parafrasiamo lucio dalla perché appunto se i i militari hanno questa tecnologia se i militari sentono il bisogno di fare delle prove è perché poi presto quando sarà il momento opportuno faranno appunto delle comunicazioni comunicazioni e guardate la mia faccia è la mia espressione comunicazioni importantissime che passeranno e nessuno potrà fermare queste comunicazioni e così tutti i cittadini americani saranno edotti di determinate cosine che poi sono cosone cose molto 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 grosse e vi ricordo a questo proposito perché qualcuno non segue disattento e disattento o ha la memoria corta che anche qua qualche mese fa a gennaio per la precisione chi segue trump lo sa un certo signore un certo signore importante e vi dico solo il nome mike 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 di nome poi il resto lo vedrete fu immortalato all'uscita dalla casa bianca dopo un summit con dan scavino e e donaldone trump e su questa appunti che si vedevano si vedevano casualmente si vedevano c'era scritto l'unica via sono i militari l'unica via sono i militari ci siamo capiti ci siamo capiti naturalmente noi siamo complottisti e il piano non esiste vi invito a iscrivervi al mio canale a mettere like a tenere sulle vibrazioni perché presto ci divertiremo e intanto ripeto iscrizione al mio canale e un bel like grazie e alla prossima videopillolina ripeto iscriviti al mio canale tutti i ultimi Grazie.